Ben trovati da Tg della mobilità, proseguiranno da domani le potature in città con modifiche alla viabilità in Viale Trassevere, è prevista la chiusura da via Carlo Tavolacci a Piazza Belli in direzione di Ponte Garibaldi, non sono tuttavia previste chiusure su Ponte Garibaldi, sono probabili rallentamenti al traffico. Nuova fase dei lavori anche su via Nomentana, questa volta si lavora dalle 8 alle 18 nel tratto tra Corso Trieste e Viale 21 Aprile, saranno deviate le linee 60, 62, 66, 82 e 90. Ricordiamo in chiusura che la seconda domenica ecologica della stagione invernale prevista per oggi è stata posticipata dal Campidoglio a domenica 26 febbraio e tutto dal Tg della mobilità. Grazie a tutti!